per agli gesti che ci sono ma la c'è del fuoco ok la vostra puntata la ricaro sono il gruppo per noi io ho fatto il posto del live adesso io ho una volta si la parla più importante a me fa malissimo ah la cosa la cosa è tu c'è bravo la cosa l'abbiamo fatta, manca il braccio ah vero questo fa malissimo oh mio dio scheggia oh bambè ok scheggia l'abbraccio l'abbraccio sinistro toccare l'abbraccio a poleo si ma tu ci stai a fare ok anche il braccio rotto tutto rotto ok bell'antonio buonasera l'abbraccio sinistro l'abbraccio sinistro che minabbo ha detto antonio è calcio e' cazzo raga raga si cambia, altra culo lì sopra ah nello stesso punto ti motta ma è fantassimo, non mi fai animare vaga manca la coda e il braccio si si, si lo distrugge spostati, questa affamare pure abbiamo distrutto stavolta la gola è nata questo, non mi scheggia io voglio tagliare, sentendo la quale comunque parto bella e migra guarda la ah io sto scappando si si è prima abbiamo fatto la messa ed è pure bello andiamo a trovarlo in italiano cazzo a dio in italiano e andone perciò nei funghi perciò nei funghi perciò lancio il flare perciò 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 ee perciò che ha un po' boccolo celeste perché se si è fatto in volo ok i pali non si vatta per l'ho visto per l'ho visto ecco il bastardo ha scritto tipo ma e storia si c'è la campagna però con mostri è un mostrante per l'ho visto ma l'ho bello sto posto io sto a fianco a te sono morto ma scelta no non 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 c'est sono morto le fermo screen sono morto male e basta diventa arrabbiare quella patina che ti vola volo non so volo ho messo la pistola manno di sto pezzo che ti ha la mamma 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 sono morto ha bloccato pure la specie hai detto Antonio ti ha super alive che mi sono morto no? sto per rimorire scheggia elevata, un'altra scheggia tolta ma non sai che sto gioco è multilattaforma? si si è multilattaforma si io sto al bracone a questo cinghialotto buono cinghialotto sono morto va oh mio dio beh lasculla scugal scugal beh stoppala va razza screwdiamond ultimo widz 64 ucch alzata ma donna non abilato ma a me ha provato di voler visto che mi diventano blu e farò no velocissimo il fatto malissimo ragazzo quando ragazzo ha fatto un kevin piccolo che venga e la scherz mi sembra mi sta parlando la faccia grazie a tre minuti gli fps stanno andando a merda madonna grazie sono morto ma raga ma sono baggato no sta a salire ragazzo di accendere veloci ragazzo top comment perdono zanna di tutti ma che è morto hai ancora un'altra zanna ancora vissuto vabbè ribbracciata ecco rotto sono 32 schegge che gli leviamo eh esatto prima è 25 ah muo ve lo dico le reanimazioni sono disattivate è morto è morto ma 8 mi è caduto in testa eh eh ui quanta roba pelle senza pura finalmente ui porcini 28 schegge di eh non lo dico perchè Antonia ci dice truce truce guarda l'ultimo commento di Antonia eh 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 pomodo admin di giustizia eh 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 è il nuovo gioco della Epic Games School C'è scritto Dauntaless Sul play store pesa 15 gigabit Io l'ho serato in cinque minuti E io 25 minuti E in 40 Ricompensa non riscattare, visita Gregario Vieni qua Bruno Essenza ardente, che cazzo è l'essenza? Tieni ricompensa Ardente, ma bravo Ok Go with deadly grace Ta 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 No, questo mi viene giuro della pancia di questo Non ho sbloccato nulla, che bello Fabbiamo pure la Gilda già, scusate Che gilda è la ragazza di Trios Quella di nuovo Allora un po dove devo andare a parlare bello pure un palano residente troppa gente non posso farlo Allora, dove andiamo a... vediamo. A Karabag. Primaveramente l'ho fatta, sta mega missione. Ma e cosa l'hanno fatta? Aspetta, durante questo... Uh, c'ho la spada che c'è, 220. Vai, l'ha messo il nucleo, va. Sì, sì, è bello. Tu lo ci facciamo, Embermane. Scaricato la gara, vabbè. E' Vanish, ne so che Childe consente audio disattivato. Pure, forse faremo... faremo un po' deco nella stessa stanza. Sport un creatore, Captain Gamer. Eh, ti saluta, eh, comunque. Raga, son morto. E sai che ho sbloccato un nuovo mostro, ragà? E' anche lo volevo sbloccato un... un botto. Eh, niente. Ci ha sbloccato... scrive boros. Ciao, ciao, ciao. Ultimo, l'osso. Potenza, potenza. Quattro e cento. Che vinti, se devi mettere come un nome, come un nome dell'accanto, son morto. Oh, ma son morto, forse... venti volte. Allora, come vedessi mostri nuovi. Non sei diventato. Mori più tu che se livello più alto che che su livello basso. Csci. No, ragazzi. Dall'altro lato, ha tratto un botto. Ammazziamo un Charrogo. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai. Ma spada, quanto ce l'ho di viaggio, qua? C'era i piccoli. I miei coglioni. Ma che cagà? Che cos'è sto umore? Ma che cagà? Skull ti vuole in chat, Kevin. Vuole in gravità. Allora, essenzia e teriche. Accogli quattro diverse essenzia e teriche per l'arma York, cioè... Pure, gelide, folgoranti... Vabbè, vediamo un po'. C'è questo, ragazzi. Non c'è il nodo. C'è il nodo. Questa è il nodo, ragazzi. Si è faggato il nodo, mi dice uno. Uno spettatore. C'è il nodo, ragazzi. si devo capire ancora pomodoro come cazzo ha fatto a farsi quell'armatura in faccia eh con cioè con un attimo ragazzi devo mettere l'armatura di fuoco come scopano il culo mi scopano che arma c'ho io io mi metto l'arma di l'arma di ghiaccio che è una pippa praticamente vabbè no le armi al fuoco non vanno bene togli 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 eh va bene va bene è fattibile tanto 150 vuole di potenza dell'arma adesso pronto se purtroppo sarà una pippa eh a sto giro devo fare la missione con arma congelante di ghiac ghiac mt 2 spavolo le faccio voleva vedere che cazzo di gioco era un paia sono molto e c'è visto più bello ad acco adaguarda brillantinato spiaggia roviglio basta farlo dove fatta se questo è un giorno è bruttissimo ciao vai ho caduto si si l'ho preso il set di jordan ma sono pure un po' pendito che non è tutta sta bellezza ah è quello l'altro giorno ah ok quello l'altra volta che di prima si no cosa vuole pistola dobbiamo tagliare la coda si subito la coda proviamo a tagliare la coda cinquecento la coda ci sono fatta una testa antichecento che accolto e accolto l'abbona 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 che fosse fuo No hai fatto sto fermo raga e la bomba quando lo fai il viaggio proprio lo massacri no se ha fatto qualche combo strano fai che pianco la un peggio a pianco fattura distruggio fa 500 bocca di tiro fai mi schiacciato guarda sto cogliendo ti ho messo a girare con le pianne guarda lo va non ha trotto non ha trotto non ha trotto lo guarda niente mi rianimo da solo pure che spiego una filina non ha trotto se non c'è una vita poi la c'è un attimo ma la cosa anche non ha trotto non ha trotto non ha trotto non ha trotto si che si guarda qui viene il combo comunque è resistente questo pure agli asti eh molto resistente ok oh tu sei una crosta bam 1333 truce fai triangoli eh vabbè triangoli andiamo e di nada stop out stop out troviamo la bruciando raga già il carica perché ragazzo a due fatine che cazzo su solo bella fire ed eccolo 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 buona sera tu e fai nè qui devo capire visto lanci un po qua ah la coda io la vedo la chiave però poi è indipendentemente indipendentemente stai andando a bianco ragazzi dai mo dai gli in faccia dai gli in faccia dai eccolo non c'è nulla così go vai go vai Ma dove l'avevi fatto malissimo, ora l'avevi scopo! Corno addentro! Era un peccato eh? Ma sterzo! Ah, mi hai ricordato di far me le dure, prima che mi stende pure a me questo? Prova di animarlo, spero non mi shotta! Ma dove l'avevi distrutto? Viva una roba sbloccata! Il turango di! Uh, nulla offensivo! Argento! Corno ardente, sfiatatoio! Uh, escape charlotte! Essenza ardente, l'unica cosa buona! Corno ardente! Ah, quello non l'ho preso io! O spina, la spina non lo so! Una delle due! Guarda un po', qua ho fatto questo! Ma questo lo mangi? No! Si conviene di si dai! Mo che missioni ci abbiamo? Buono! Ricompensa di Gregorio, di nuovo! Tre nuove missioni! Io faccio arico! Buono! Che è qua? E' oro! Sbloccavo questo! Le fa sbattare il mancato! Guarda un botto! Uh, 25 di platino! Mamma mia ragazzi! Sono vecchissimi! I primi V-Bucks! Va bene! Di Dauntless! Scusate! Allora apriamolo! Spacchetto un po', eh! Guarda, guarda! Guarda, guarda! Guarda, guarda! Guarda, guarda! Guarda, guarda! Guarda, guarda, guarda! Guarda, guarda, guarda! Le furiose non si trovano! Prevento delle cariche per lanterna! Bon! sinde di podzio! Le scaglie furiose! Scaglie furiose? Qualche beh amotto di poco lo avrebbero visti! Ah, si? Non capito come siamo countdown!!! Ah, celle di mer hacer! Ni ne vado a parlare per le missioni! erk CapriLe викle! let us speak a moment asia ospite moment avresti re vittorio tende spg pd ericite lest storm club in on my side on ala ala vado a prendere il nesal vado a prendere l'armatura andiamo a girongiur... gironzoliamo un po' in città che cazzo lo faccio? welcome slayer luce letta che luce franta I have work for you un pangar? che cazzo è un paguro? va bene, è la luce elettrica uscita di un drask con un'arma non elementare i bemontaminari non contano per questo obiettivo ragazzi ho lo scudo, c'è la corazza a 400... 340 la spada ferma la spada ferma 340 asbordano bt e verma uccidi un bel auto ma uno di ghiaccio l'abbiamo amassato uno di ghiaccio si con l'arma da fuoco uo sbloccato alien l'armatura bellissimo pancar raffmann allora in seguimento bello congelanti facciamo il gufo gufo di che elemento è? ghiaccio però questo è un gufo diverso da quello di prima perchè quello non era elementare l'arma uo come due missioni aspettate allora uso le pistole incendiarie eh ti conviene mettete una spada di fuoco vado anche a farmi le granate metti di là così perchè resistenza al ghiaccio quindi da mettere la natura di fuoco giusto nel frattempo aspettiamo spacchettiamo vado da questo bello però a 180 penso che basta quello è 150 se non sbaglio solo al 100 vabbè aumenta i danni inflitti carichi di hate carichi di hate vado ho potenziato le piste in un po' d'assurdo si facciamo 400 o 450 mi sembra e lo sai che non lo so lo sai che vediamo vediamo potenza dell'arma suggerita 150 e siamo a posto armatura sul classatura sul classatura no faccio 172 ok sta perfetto ah scrivo bello ok sta perfetto per te allora e pomo ogni volta che iniziamo una missione si perde si wagee e si è accorto grazie ogni volta che iniziamo una missione tu ti perdis scompare ok cc non ho messo a posizioni e ritardato questo è un nuovo mostro per noi a me la sua mia fatta giusto non mi piace bella sta mappa si può essere la più bella io ho luto dopo quella di prima si si erano trovato sai che ci aggiungerei di minimo si sono si per il mondo che incontro quello grande per i piccoli muori giusto 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 questa nuova buono 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 il mondo buono ma puoi fammi capire sta roba che devo prendere a raccogli 30 senza ardenti durante la vabbè tu vabbè 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 ha scelto la sua classe pistolero ma gaming vabbè 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 flasking ok a carlo per liberarti per il ritorno però questo congela la gara gara al braccio di danno fanno un po più amici di sole ecco vera riesce un mirino al braccio e la seconda volta che era come un bastoncino pinto un polaretto raga testa raga vedo la testa? si la testa lei si va la testa la parte più debole non lo vuole visto che stai impressionante truce polaretto che è il game ball ha detto? magnatelo magnatelo dito mamma attenti che congela ecco che video io o ragion b la dame che vuoi che credi sono giudino sono morto Perchè mi ha fatto il mirino alla destra che sto qui? Anche a me Non ho capito Ma è più danno, mi fa fa 300 in destra Perchè praticamente dove noi con la pistola lo prendiamo Vesce il mirino Ecco la testa La testa di nuovo, testa Quindi questo pure scappa, non fa due round Ok, senta a testa di nuovo E braccio Sì Ok, frammento di più magia che vedo Buono Ok, frammento di più magia che ha aziende Il giro non è che 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 è È un giro che ci sta È un giro che si fa E un giro che si fa E un giro che si fa bello se gli fai danni provocati la smette di non girarmi sta volando a scuola da questa acqua sotto ma com'è che si ricaricano le pistole mi faccio danno testa raga testa sta facendo venti fisso nooo non l'ho preso per pochissimo becco il giugno lo spaccato becco bella è ottilente è una pelle in destra con la cosa speciale il giugno è un uomo che non è spiace aia oh che sale becco 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 non fai paura stupido bella da lui bella da lui io non riesco a sentire quello che dice no ha il volume alto è il volume a metà devo fare sì mille e ottanta allora lo disturbole ragazzi la botta di finitino vai a scappare vai a salire testa è morto ehi guarda che c***o ecco il dash ragazzi non ha più punti deboli come c***o è possibile che è la testa testa ragazzi io lo sto a fai estero il punto giallo sapete non dobbiamo fare motivo si si lo prendo in testa guarda è morto guardate cioè sei completamente distrutto cos'è che lo dobbiamo innupire ah che è morto scrive sac sac 11 c***o bella franco ecco ecco artiglio buono 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 è lenta immagino poi non c'è l'amiastria e le vadano dunque le pistole a voto 10 ma sono forti io mi penso che sono no però sta una affa schifo questa missione per esempio 80, 70, 60, 10 bello allora la missione da consegnare andiamo a consegnarla non è che il testo muo non è che il calo così sono sorprendenti grazie a fare i venti vari eventi 30 fps secondo me allora ci sta ente dico possumensi canso il demo stessuale lo spacca testa ottiene un canino frattale dalla testa di un drusk ottiene una piastra frontale nerita dalla testa di un helion e pangrei uccidi un bemol terdente con un'arma congelata con la droga che è un totale ah l'ho già preso cazzo e niente che missione dovremmo fare? 10 milioni di danni con le pistole hai da scendere cosa nasce? ah drusk dovremmo lo facciamo drusk qua non c'è qua non c'è fulgoranti solo che questo è un drusk così è troppo potente ma che caccia un drusk? troppo difficile questo dai a me servirebbe un uccidere un bemol terdente con un'arma congelata o dovremmo rifare perchè qua dice raccogli piuma argentea sempre questo gufo fino a ardenti ardenti rimane quello la da 200 embermane non so se no eh quello che ci fa bestemmiare tanto no che sto a fare? annulla annulla il matchmaking annullalo beh che missione c'è da fa qua l'asplorazione ok essenze pure guai allora equipaggiamento questa la possiamo buttare via mettiamo questa comunque la spada da 300 potenza figa vederla questa sarebbe esplorazione non elementale bisogna via aspetta che è? che elemento è? eh nessuno puoi usare qualsiasi arma allora via l'aspetta il suo il suo il suo il suo lo sa che per lo suo cuore supporto il se l 300 300 potenza e 100 lo distruggiamo il suo il suo il suo il suo 300 perché dipende l'arma che c'è equipaggiata o l'armatura no dico l'armatura perchè l'armatura è 70 ah perchè questo auto auto ah tu si ricordi che di canta l'immagine l'immagine di youtube dico sono bloccato ah ok ah 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 ragà l'ho trovato subito si far fuoco fai fatto quando è tutto questo regà aia fa anche male aia uccideremo nei luoghi forse la mostra ok ragazzi ce ne fa un aiuto libera la testa alla coda si la fede non la coda raga il carico perfetto noti girato un lavoro la coda risultati con la brucia il microfono spendo bella la maniera crocantelle il sito Prenditi Sto ancora in live Sì, sì Dai, gli faccio danno alla poda, raga È andata qua qua Ah, è andata? Nooo Eh! Swoonz Lascia con me Ammazzate granale Fai già più la poda, raga, è rossa No, no, è più l'altra Vuoi fatto cadere? Eeeh, è rossa Che figo fa il danno Uh, la gamba, raga Sta facendo solo un botto Uh, livello 10 Eeeh Oh, si è incazzato, raga Sì Ma che sta a fa' salto salto Il gente Raga, danno la coda, raga Moltiplicato, raga Vai Eeeh, mi sta rincoglionendo questa cosa Eeeh Sinceramente Guardalo, guarda E poi se ne va Adesso Coda Vai, perché c'è il mirino qua la coda E staccati Staccati Stacca di mettere il mirino sulla coda Come fai a metterlo? Le pistole? È un'abilità? Eeeh Si Ecco Staccala sta coda Faccio la testa del mirino? No, la coda Quindi con la mossa speciale lo colpisco e gli c'è il mirino Ah Eeeh 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 qui ci sono delle pietre illesistibili aia testa direi ci sono arrivando che è in piano ma non so dove si è un attimo il filo giocci e ragazze tirato in fuoco tirato in fuoco non vi vedo attori morto non ho vita non so se non sono morto che cacastor di merda vien che cacastor di merda vien che cacastor di merda 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 quindi che cacastor di merda che cacastor di merda che cacastor di merda aia caro sei immortale raga lo rineschiate spesso il braccio raga sta morendo? bello se fai solo carino eh s più ma qual'è il grado massimo? s più più con 2 più 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 patti terra affilato 5 esperienza di difenza di calcio chi ha? più 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 a no livello 10 e 6 11 puoi compensare la stanza in zona laio spero che il frizzino anche per sempre è la cosa più bella io ho assento una faccia potenza 300 allora io devo fare la missione o le pistole che onestamente non mi vale fare qui ci devo incidere un babayaka e non ne so come si chiama aspetta vabbè raga io voglio più fortuna vabbè bene io sono fortuna vorrei nonostante araldi della tempesta uccidiamo un charlotte ti sei sempre sulla missione ottieni un canino frattare da elion e panga cosa invece lo shop allora sinceramente dobbiamo potenzioni volenziali quasi anch'io sotto l'altra armatura si sta potenzialmente non è un po' lo sbaglio prima risultati su posto ok a io andremo in al massimo io l'annaccio devo al massimo quindi minchia e ciò potenza qualsi 500 lo scudo allora due con questo eh sinceramente non so che potenzia ha ci arroga ah bella il fuoco sta a 260 questo di ghiaccio a 140 c'è altro c'è crea morso furioso completato ok ok ah la pistola comodonchio comodonchio ah siamo anche qua io sono ancora qua ah chi è certo io sono ancora ecco ahi sta a frizzare il gioco che si è granate ok un po' di pistola ora 65 35 35 35 35 dove sta quello scrive figo questo è 85 questo è 85 quindi vai allora ora le pistole di male gli hanno la chiamola no ma non mi immagino 205 questo è bello non c'è una cella che protegge contro gli stati sibertani turistana salute che impende una parte aumenta la salute massima yes livello sbloccato platino nucleo sly argento squartatore bello lo tunare colpo furtivo ok equipaggiamento ora la cella ce la dovrei avere ah la praticamente davvero se la città cia siamola noi possiamo farci bellissimo ah che cazzo basta Allunga la cimera Allora, ottieni una piastra a godare l'anerio da un hellion 4-7, ci proviamo a farla? Mh, vai La tecnica del pack a testo è il futuro del charrog Buono Esplorazione ardente, che stai a fare un elementare? Allunga la cimera Ballo, voto 9 Ma? Che crashato il gruppo ragazzi Uh, ragazzi Lavo shop Che shop? Caccia abbandonata Ma che shop il merda Ancora il pesci secco 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 Abbiamo esce Andrò, abbandonano la caccia Ragazzi, è dotato Fonix rot Yeah, yeah Un mo light, lobby battaglia reale, 1 su 16, tk r Per abbandonare la battaglia Appunto intero che vieni Ma fai... Se esci dal gioco No, non conviene No, non conviene E' abbandonare Ah, non esce dal gioco C'è intanto dal... Sì, dal lolo Da dopo, sì Allora, amici... Allora, amici... Allora paura PURECOP POC IOLOGUP Moonlight IOLOGUP IOLOGUP Ahi... Di orio di citare Tutore La media deve sul messaggio do. Ok Non so che ci trugiarimamente Un po' di tempo E' una cosa che non si muovere Tutti E' davanti al massimo Allora Ciao